Come essere più intelligente, 10 consigli confermati dalla scienza. Leggi regolarmente, la lettura può espandere il tuo vocabolario, migliorare le tue abilità di comprensione e stimolare la tua immaginazione. Leggi libri, articoli e notizie su vari argomenti per sviluppare una conoscenza più ampia. Impara nuove lingue, l'apprendimento di nuove lingue potenzia la memoria, migliora la capacità di multitasking e aumenta le tue competenze comunicative. Esercitati nel problem solving, risolvere problemi e rompicapi come sudoku, cruciverba e scacchi può aiutarti a migliorare le tue capacità logiche di ragionamento. Dormi a sufficienza, un sonno adeguato è essenziale per la funzione cognitiva, la memoria e l'apprendimento. Assicurati di dormire almeno 7-8 ore a notte per garantire una mente riposata e attiva. Coltiva la curiosità, fai domande, cerca risposte e approfondisci i tuoi interessi per ampliare le tue conoscenze e comprendere meglio il mondo che ti circonda. Socializza, interagire con altre persone può stimolare il pensiero critico, migliorare la comunicazione e offrire nuove prospettive e idee. Segui un'alimentazione sana, una dieta equilibrata ricca di nutrienti, antiossidanti e acidi grassi omega 3 può sostenere la funzione cerebrale e migliorare la memoria e l'apprendimento. Esercizio fisico, l'attività fisica può migliorare la circolazione sanguigna, aumentare l'ossigenazione del cervello e stimolare la produzione di neurotrasmettitori e fattori di crescita neuronale, favorendo così la funzione cognitiva. Medita, la meditazione può ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e aumentare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. Impara continuamente, sviluppa un'attitudine all'apprendimento continuo, frequentando corsi, partecipando a seminari o workshop e apprendendo nuove competenze. Questo ti aiuterà a mantenere il cervello attivo e ad adattarti alle nuove sfide. Seguendo questi dieci consigli confermati dalla scienza, potrai migliorare la tua intelligenza e diventare una persona più competente e consapevole.